I carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia hanno denunciato in stato di libertà otto persone che in concorso tra loro si sono rese responsabili dei reati di rissa gravata e lesioni personali. Nella circostanza i militari dell'arma, all'esito di una meticolosa e articolata attività di indagine, sono riusciti sia a ricostruire le fasi che a identificare i partecipanti alla violenta e prolungata lite tra due gruppi familiari consumatasi nella centralissima Piazza Umberto del comune di Santa Maria di Licodia lo scorso 19 giugno. A far esplodere gli animi dei contendenti sarebbe stato un banalissimo battibecco tra due minorenni che erano intenti a giocare a calcio nella piazza, durante il quale la madre di uno dei due è intervenuta energicamente per dividere i ragazzini. A quel punto sono accorsi a difesa del figlio anche i genitori dell'altro minorenne, circostanza da cui è scaturita una vera e propria contesa tra i due nuclei familiari a suon di calce e pugni, prolungatasi per qualche minuto. I carabinieri, grazie a una profonda conoscenza del territorio e dei cittadini residenti, dopo aver esaminato le immagini dei numerosi impianti di videosorveglianza presenti in Piazza Umberto e aver ascoltato le dichiarazioni dei testimoni, sono riusciti in un brevissimo arco temporale a identificare tutti i partecipanti alla rissa. Il bilancio medico del Tafferuglio, all'uscita del pronto soccorso dell'ospedale di Biancavilla, ha fatto registrare per due dei partecipanti lesioni guaribili tra i 7 e i 10 giorni.